Lasciare a casa l'auto e scegliere mobilità alternative ed integrate come treno, autobus ed anche traghetti. È l'obiettivo di Link Costiere e Link Cilento, l'iniziativa che ha messo insieme la Regione Campania, Trenitalia e Travelmar per quanto riguarda gli spostamenti via mare. I dettagli dell'iniziativa sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa alla stazione marittima di Salerno. Assenti all'ultimo momento il Presidente della Regione Campania alla conferenza stampa hanno preso parte Sabrina De Filippis, Direttore di Visione Passeggeri Regionali di Trenitalia ed il Presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone. Nel pieno dell'estate di Trenitalia siamo in una regione meravigliosa con tante bellezze naturali e tante bellezze storiche. Abbiamo due importanti partnership con gli operatori locali e quindi grande intermodalità e capillarità per tutte le persone che vogliono raggiungere in maniera molto capillare tutte le località di questa splendida regione. Da anni si parla di questo biglietto unico, oggi finalmente c'è possiamo dire cosa? Sì, è un'integrazione di vettori, un'integrazione modale e che si accompagna alla vendita di un unico biglietto. Un'ulteriore iniziativa con la quale si spera almeno nel nostro territorio di incentivare anche le presenze turistiche. Il turismo in quest'area sta soffrendo molto? Sì, diciamo che queste sono tutte iniziative che rilanciano il turismo e quindi siamo sicuramente convinti che anche questo aiuterà moltissimo la regione da questo punto di vista. Sì, questo progetto di turismo di Trenitalia è un progetto che si integra benissimo con gli sforzi che sta facendo la regione Campania, con il Cilento Blu, con l'alta velocità per il Cilento, con le linee ferroviarie turistiche che sono state riattivate soprattutto in provincia di Avellino. Quindi è un progetto integrato una cui parte di interventi viene finanziata dalla regione Campania e le aziende di servizi ferroviari si stanno ovviamente adeguando e stanno sostenendo il nostro progetto e hanno attivato questi altri servizi che significa un collegamento diretto col biglietto del treno, il raggiungimento via Mane dell'isola di Capri piuttosto che di altre località turistiche e poi il raggiungimento di Amalfi, Pompei e quindi tutte le località di maggiore pregio del nostro territorio.